No, per favore, no, basta, sempre addosso, sempre addosso La bacio, non va bene, non la bacio, non va bene, mi bacio mia sorella, non va bene, la guardo non va bene, la tocco Ma non va bene, assolutamente no E io che cazzo devo fare, sto con una ragazza, trovatemi una bambola gonfiabile, per favore almeno lei non parla Che sin? Pure gelose, vedete? Cosa faccio io con questo? Che cazzo faccio io con questa ragazza qua? Cosa? Sto impazzendo? Niente Non devi parlare, non devi respirare, devi stare seduto, non ti devi muovere, sei perfetto così, perfetto, ok? Beh, i ragazzi d'oggi imparano subito poi, due o tre paroline ed è finito ragazzi Vaffanculo!